e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità bene allora oggi parliamo dell'estratto conto contributivo previdenziale dell'inps un servizio che io ritengo abbastanza utile per tutti quanti come sempre maggiori informazioni nel qui sotto nella scheda del video così oggi voglio rispondere ad alcune domande proprio su questo servizio che cos'è quindi che cos'è a chi è rivolto e come funziona partiamo subito dalla prima domanda che cos'è l'estratto conto contributivo in pratica è un documento che elenca tutti i contributi versati all'inps in favore del lavoratore quindi riepiloga i versamenti da lavoro quelli figurativi e da riscatto suddivisi in base alla gestione alla quale il lavoratore risulta iscritto l'estratto conto previdenziale riporta tutti i dati anagrafici del lavoratore e i versamenti previdenziali ed ha anche la possibilità di visualizzare e poi anche stampare la propria posizione retributiva pensate un po a partire dal 2005 fino ad oggi l'altra domanda è a chi è rivolto grazie all'estratto conto contributivo i lavoratori possono verificare la regolarità dei contributi versati autonomamente oppure quelli versati dal datore o dai datori di lavoro poi tutti i lavoratori che sono prossimi alla pensione possono anche richiedere alle varie sedi dell'inps l'estratto conto certificativo che racchiude l'attestazione della posizione assicurativa con ascoltate bene con valore legale proprio come riportato sul sito internet dell'inps l'altra domanda è questo come funziona il lavoratore può consultare il proprio estratto conto in vari modi diciamo che il più semplice è quello online sul sito internet dell'inps e una cosa molto interessante è che nel caso in cui ci siano periodi di lavoro svolti presso dei datori di lavoro sia pubblici che privati e anche periodi di lavoro autonomo all'interno dell'estratto conto si potranno visualizzare le diverse sezioni suddivise anche per colore apre una parentesi io ci ho provato a entrare dentro e vedere effettivamente così è proprio diviso ci sono quelli da lavoro dipendente quelli il lavoro autonomo è proprio diviso e spiega suddiviso anche per anni con tutti i versamenti insomma è fatto abbastanza bene ma torniamo a noi come vi dicevo prima l'estratto conto lo si può consultare direttamente online sul sito internet dell'inps quindi www.inps.it poi eventualmente qui sotto nella scheda video vi lascio anche quel collegamento oppure lo si può richiedere anche in questi altri due modi che adesso vi dico primo ovviamente tramite il centralino telefonico dell'inps al numero 803 164 oppure 0 6 164 164 oppure secondo sistema andando da un caff patronato o professionista abilitato all'invio delle dichiarazioni anche un consulente del lavoro un commercialista un tributarista ecco con la delega loro riescono a entrare all'interno della vostra situazione e possono stamparvi farvi vedere tutto quello che avete necessità di controllare quindi anche oggi un altro servizio molto utile e gratuito offerto proprio dall'inps bene con questo è tutto vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e poi come sempre vi ricordo di seguirmi anche su instagram è facilissimo basta entrare nell'applicazione di instagram cercarmi e seguirmi con questo è tutto ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre e solo sull'unico canale originale di youtube il mio ti aspetto ciao